Davvero alcuni pensano che con il DDL ZAN si combatta realmente la discriminazione? Lo ha domandato in un post su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Questa legge, invece, rischia di diventare un modo per imporre un certo tipo di modello in un mondo nel quale siamo tutti fluidi, privi di identità, privi di radici, privi di consapevolezza, privi di capacità di difendere i nostri diritti. Solo perfetti consumatori buoni per gli interessi delle grandi concentrazioni economiche, ha spiegato Meloni. La presidente di FDI ha anche fatto sapere che Fratelli d'Italia ha presentato in Parlamento una mozione per impegnare il governo ad andare in Europa per chiedere che la UE condanni apertamente gli stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità e non stringa con loro accordi di cooperazione culturale. Sono ben 69 le nazioni che, spesso in virtù dell'applicazione della legge coranica, prevedono pene variabili da un anno fino all'ergastolo e alla pena capitale. Vedremo in Parlamento come si esprimeranno i cosiddetti «paladini dei diritti LGBT», che oggi chiedono di censurare le leggi approvate da stati sovrani solo perché governate da governi a loro lontani ma che finora sono rimasti in silenzio quando si parla di difendere gli omosessuali in queste nazioni. «Basta ipocrisia», ha affermato Meloni.